venerdì 23 giugno ben trovata e ben trovati a liberi dentro e durati tv la trasmissione che tutti i giorni vi fa compagnia per mezz'ora dal lunedì alla domenica inclusa per parlare di tanti argomenti afferenti alla sfera carcere ma non solo parliamo di sport di salute di cultura di film di libri di tutto e oggi parliamo di una cosa molto interessante che è successa a pozzuoli in provincia di napoli e che ha a che fare con le donne alessandro raccontacela un attimo ciao antonella e ciao a tutte e tutti sì oggi vi diamo una notizia un po inedita un po di cui non avevamo mai parlato perché parliamo di moda all'interno delle carceri e come dice la stessa donna che la sta portando avanti è moda per il sociale perché quello che hanno organizzato non è una semplice sfilata all'interno di un carcere che già dire questa cosa ha dell'incredibile ma è anche un flash mob un flash mob organizzato in memoria della ragazza uccisa giulia tramontano che si sente su tutti i giornali ecco questa occasione però è stata non solo quindi un'idea per l'esterno e quindi per commemorare un tragico evento ma anche un fattore di motivazione per l'interno perché come ci dice una delle donne che hanno sfilato amelia sorino che ha 70 anni quindi complimenti a lei per aver sfilato anche a quell'età lei ha detto io con questo percorso ho avuto la possibilità di capire che cosa significa la libertà che è qualcosa che nasce dentro di noi so di aver sbagliato ma sto pagando e non vedo l'ora di poter riabbracciare nipoti e figli beh alessandro questa è un'iniziativa bellissima perché ho sentito raramente di progetti tipo questo che di rimando sembrano essere superficiali ma in realtà non lo sono affatto perché la cura di sé l'attenzione verso il proprio corpo verso la propria bellezza non è soltanto qualcosa di effimero e di estetico fino a se stesso ma significa proprio mi prendo cura di me e lo sappiamo noi che abbiamo proposto sul suggerimento delle donne della dozza programmi come liberamente truccate oppure capelli slegati e quindi ben venga questa attenzione verso il corpo che ci permette di stare più a contatto con le stesse verissimo Antonella come ha detto la stessa direttrice del carcere di Pozzuoli dove si sta svolgendo l'iniziativa la direttrice Maria Luisa Palma questa è un'occasione per tirar fuori la bellezza di chi vive dietro le sbarre ma non solo in realtà perché anche in ottica lavorativa questa esperienza potrà essere spesa dalle detenute che vi hanno fatto parte come ha detto anche la promotrice della manifestazione Anna Paparone la loro idea è quella di dare la possibilità di un riscatto non solo sociale e interiore ma anche lavorativo perché viene affidata alle ragazze detenute che vi hanno partecipato un vero e proprio credito formativo spendibile nel mercato del lavoro e quindi questa iniziativa andrà anche a figurare nel loro curriculum adesso passiamo all'ultima intervista con l'associazione senza il banco che sta curando la nostra Elena Nicoletti insieme a Sonia Bisci l'associazione senza il banco è un'associazione che si occupa di diritti della famiglia e si occupa anche di promuovere delle pratiche in ottica di prossimità e di solidarietà ascoltiamole buongiorno a tutte e a tutti e a tutto siamo per l'ultimo giorno insieme alla nostra ospite della settimana che è Sonia Bisci dell'associazione senza il banco e prima di approfondire il luogo in cui si è svolta questa intervista che è la casa di quartiere Katia Bertasi vorremmo riprendere le fila per gli ascoltatori e le ascoltatrici di un progetto molto importante che l'associazione promuove e ha in atto ormai da anni nella zona del pilastro quindi una zona di prima periferia nel quartiere San Donato San Vitale della città di Bologna perché il progetto come ci ha raccontato Sonia è nato già nel 2020 in un momento di particolare difficoltà sociale quindi il progetto Green and Care partendo dalla connotazione della prendersi cura del territorio ha creato in realtà dei momenti di aggregazione dove l'obiettivo principale era proprio il prendersi cura delle persone arriva in un momento di post pandemia in cui si sentiva molto forte l'esigenza di tornare ad avere dei momenti di incontro di socialità di portare fuori di riportare fuori le persone che si erano chiuse in casa che avevano paura di uscire e quindi grazie al tema naturalistico e quindi dall'uscire fuori da stare all'aperto e trovare dei luoghi accoglienti all'aperto dove la gente si potesse sentire anche sicura e tranquilla di poter uscire e stare all'aria aperta siamo riusciti in qualche modo grazie a questo a questo tema qui a far rincontrare le persone e a far riacquistare fiducia nella riagganciare e riallacciare dei rapporti personali sociali una nuova socialità insomma che era venuta un po' a mancare a proposito di casa di quartiere l'intervista di oggi ci hai proposto di farla in uno spazio nuovo inaugurato pochissimo tempo fa che è la casa di quartiere Katia Bertasi e ci vuoi raccontare come com'è questo luogo per chi ci sta solo ascoltando e non lo può vedere e a cosa adesso verrà mh verrà dedicato sì allora la casa di quartiere è stata Katia Bertasi è stata inaugurata il 27 maggio quindi veramente pochi giorni fa e è un work in progress in questo momento una struttura per chi non la sta vedendo appunto molto grande e siamo praticamente quasi in centro nel centro di Bologna siamo poco fuori le mura e una zona in forte riqualificazione e quindi abbiamo questa struttura nuova con tanti spazi ampi spazi e al momento stiamo lavorando sulla programmazione delle attività future sicuramente si incentrerà molto sulla sulla cultura e sull'arte art 360 gradi il senso abbiamo adesso esposto per esempio tre tre tipi di mostre una del museo temporaneo navile che hanno detto che ha dedicato alcune opere alla a Katia Bertasi Katia Bertasi infatti è una delle vittime della strage del 2 agosto e appunto dà il nome a questa struttura abbiamo un'altra mostra di Vittorio Zanella che ha che espone i suoi burattini le sue marionette sui pazzi abbiamo infine un'altra mostra di Gabriele Fiolo dell'associazione tempo e diaframma del treno della memoria tutte cose ovviamente visionabili anche online e soprattutto questa quest'ultima ha un ai museo online quindi vi invito ad andarla a vedere perché molto molto interessante questo per dirvi che comunque l'arte e la cultura è molto importante per noi sarà molto importante in questo in questo luogo staremo aperti a corsi di teatro danza piuttosto che spettacoli insomma sarà veramente molto ampia l'offerta culturale ed artistica abbiamo giù al piano terra un'ampia sala polivalente dove sicuramente faremo delle degli eventi abbiamo il bar aperto adesso dalla mattina fino alla sera tutti i giorni se volete venirsi a trovare e lì c'è uno spazio dove già da adesso anzi già dal primo giorno abbiamo accolto famiglie con l'angolo bambini abbiamo accolto i nonni che giocano a carte vengono qui ogni pomeriggio a giocare a carte e abbiamo la sera i ragazzi che vengono a prendere l'aperitivo e cioè adesso anche se stiamo partendo a piccoli gradi però si inizia già a respirare quello che noi intendiamo casa di quartiere cioè una casa aperta a tutte e a tutti e con varie possibilità anche di passare del tempo libero in libertà cioè aperta dalla mattina fino alla sera e liberi di venirci a trovare di proporre anche delle idee e dopo aver ascoltato l'intervista di elena ricoletti oggi torniamo all'abitudine di proporvi il venerdì bestiale e parliamo di un insetto importantissimo per la biodiversità ma anche proprio per la continuità del nostro pianeta stiamo parlando delle api e sappiamo che le api purtroppo in molte parti d'europa stanno morendo però cerchiamo di andare un po' a fondo di conoscere meglio questi meravigliosi insetti che tra l'altro ci elargiscono il nettare di vino che è appunto il miele e non voi immaginate quanto gli apicoltori siano invaghiti delle loro creature tant'è che ce n'è uno che ha avuto tantissimo successo su twitter che si chiama marco valsesia di 30 anni che ha tantissimi followers e racconta giorno per giorno la vita nell'alveare e il suo lavoro con tante bellissime foto con tante spiegazioni e anche perché in realtà le api vivono in una comunità e un alveare in realtà è un super organismo lo stesso valsesia ci dice che le api che effettivamente lui alleva sono in realtà di due tipologia una è l'apis mellifera e poi c'è anche l'altra che di tipo orientale l'apis cerana e sono le famiglie appunto che producono miele sono le uniche specie e poi c'è appunto l'ape regina per la quale ovviamente valsesia ha una passione smisurata che si contraddistingue dalle altre api dell'alveare perché l'apicoltore pone un puntino colorato sul dorso per riconoscere attraverso una scala di colori ovviamente che è internazionale la data di nascita dell'ape antonella sinceramente io non lo sapevo che addirittura gli apicoltori marchiassero le api regine e per curiosità quanto vive un'ape regina allora ti dico subito che l'ape regina vive fino a cinque anni mentre pensa che le api operaie vivono se no un mese e mezzo e che le api regine sono nutrite dalle api operaie che sono proprio delle delle ancelle che proteggono l'ape regina la nutrono sono le spazzine che puliscono casa le guardiane che presidiano la comunità e danno l'allarme in caso di pericolo emettendo addirittura alessandro un feromone che odora di banana e poi ci sono le bottinatrici che volano instancabili trasportando nettare e polline insomma il mondo delle api è un mondo fantastico e dovremmo stare molto attenti a preservarlo perché in questo modo preserviamo il nostro ecosistema ma mi fermo qui per dare la parola alla rubrica del venerdì tanto attesa che è islam cultura e religione la rubrica curata da hamdan al zekri e dal nostro ignazio de francesco il tema di oggi è il pellegrinaggio ascoltiamoli benvenute e benvenuti a tutti a questo spazio settaminale con hamdan al zekri che è imam e volontario carcerario e svolge il suo compito a solliciano il carcere di solliciano e tante case secondarie in italia membro del lukhoi una delle sigle dell'islam italiano non l'unica ma una delle più importanti anche è uno specialista di dialogo interreligioso benvenuto salam aleikum dottor hamdan alaikum salam frani azzo la pace e la misericordia di dio sia con tutti i fratelli sorelle sia musulmani non musulmani che ci ascoltano dentro il carcere ma anche fuori dei carceri l'islam come tanti altri sistemi religiosi il cristianesimo il giudaismo il buddismo e via dicendo è caratterizzato da delle feste delle ricorrenze annuali cioè il tempo non è sempre uguale giorno per giorno c'ha dei momenti particolari e abbiamo visto è passato il mese di ramadan e quindi è quel momento che tutti conosciamo un'altra festa importante la cosiddetta festa del sacrificio che si celebra cade tra pochi giorni noi siamo il 28 giugno noi andiamo in onda adesso quindi mancano pochi giorni allora è l'occasione un pochino per informare e tutti quelli che ci stanno ascoltando da fuori dentro il carcere che cos'è questa ricorrenza annuale dell'islam e poi come la si può vivere in carcere questa ricorrenza allora grazie frani azzo grazie a tutti i fratelli e sorelle che ci ascoltano noi viviamo questi giorni benedetti che sono giorni sacri giorni santi che ci chiedono infatti dio ci chiede delle azioni sacre delle azioni sante azioni sia di passi di passi con come dice un sapiente passi con le gambe e movimenti con le mani e poi ci sono passi anche di parole ci sono anche azioni con le parole perché ci sono anche le parole fanno le loro azioni no quando dico un fratello assalamu alaikum rahmatullah allah ma'ak e tutti questi sono che riano dentro l'altro è una fiducia è anche una tranquillità perché qualcuno prega per me qualcuno è gentile verso di me quindi durante questi giorni la prima cosa che dobbiamo stare molto attenti di fare un ritorno sincero verso dio perché sono giorni nel sacro corano che dio giura su questi dieci giorni il giuramento di dio su qualcosa giura su qualcosa che lui ha creato lui il creatore di tutto però quando giura giura su su degli elementi su dei componenti nella natura che hanno loro come dire ruolo fondamentale nella vita del dell'uomo giura sul sole giura sulla posizione delle stelle perché sono grandi creazioni che hanno la loro importanza certamente molto difficile far comprendere magari perché non esiste questo aspetto del dio che giura sulle sue creature nel cristianesimo nell'ebraismo però nell'islam il giuramento sul tempo giura sul tempo per sottolineare l'importanza del tempo quindi giura su questi giorni perché sono fondamentali sono importanti in questi giorni siamo invitati a digiunare questi dieci nove giorni il primi dieci nove giorni del da 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 di questo mese del haggia oppure se non riusciamo importante eh digiunare il giorno di arafa che sarebbe il nono giorno che è fondamentale molto importante se non possiamo digiunare pregare fare do a fare invocazione chiedere perdono perdonare salutare salutare condividere condividere il pasto condividere anche l'acqua ma condividerlo con il nia con la sincerità che io voglio costruire un rapporto un legame con dio un rapporto eh sincero tranquillo un rapporto dove posso sanare tutti i miei sbagli del del passato eh quindi queste sono giorni benedetti dove ricordiamo soprattutto la fede di abramo ebrahima alaihi salam la pace se con lui abul anbia viene chiamato eh nel nel sacro corano il padre dei profeti ricordiamo la sofferenza soprattutto di agar la pace se con lei ma anche eh l'obbedienza di Ismaele al suo padre eh e quindi ma è una obbedienza con fiducia in dio se dio ti ha ordinato di sacrificarmi io ascolto eh il tuo ordine ascolto eh e ho tanta fiducia in dio quindi una fiducia attiva quella che abbiamo detto no? Hagar eh Hagar alaihi salam eh quando Abramo eh come dire esegue l'ordine di dio abbandona eh Hagar alaihi salam con il suo figlio lei con fiducia dice se dio ti ha ordinato questo non ci abbandonerà infatti durante il pellegrinaggio milioni e milioni che accadrà in questi giorni da tutto il mondo da tutto il mondo di tutte le lingue di tutti i colori di tutta di tutta l'appartenenza sia etnica che vengano a fare il pellegrinaggio senza distensione unite con il vestito bianco senza distensione fra maschio femmina e tutti ripercorrono anche i sette passi che cosa sono i sette passi sono i sette passi che ricordano ogni anno ricordiamo la sofferenza il dolore di una donna che ha sofferto che ha cercato l'acqua che ha 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 la madre di Ismaele la pace con lui quindi in questi giorni dobbiamo ricostruire la nostra fede dobbiamo ricostruire i nostri legami con dio i legami con gli altri perché i legami con dio non sono staccati e dei legami con gli altri certo certo quello che mi ha colpito particolare che hai detto no e che è un colpisce anche tutti noi che vediamo magari qualche qualche video delle del pellegrinaggio delle la mecca noi sappiamo che per l'islam è molto importante la separazione tra uomini e donne adesso non entriamo le questioni di genere ecco ma tocchiamo questo solo questo punto noi vediamo per esempio in 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 moschea eh se vanno le donne hanno la loro stanza devono stare dietro gli uomini davanti io che sono da tanti anni in medio oriente se salio sul pullman e con le donne con le donne non è che ti siedi vicino una ragazza o una signora anche fai in modo che le donne siano con le donne gli uomini con gli uomini quindi c'è questa questa separazione non c'è il mulan ma si attenti al mulan mai mai toccare mai darla per esempio noi siamo abituati a dare la mano ecco però nell'etica islamica evitare il contatto tra uomo e e donna allora succede che nel pellegrinaggio invece eh tutti insieme tutti insieme ma qual è il motivo per questa questa cosa qui che si sta così tutti insieme li vediamo i giri anche intorno alla cava si fanno tutti insieme e arafa si va tutti insieme qual è il motivo eh vedi frani è un luogo sacro eh dove c'è un rito sacro dove tutti noi siamo uguali davanti a dio verremo sia uomini sia donne tutti insieme non separati e per cui è un luogo dove ci accomuna soltanto la preghiera ci accomuna il chiedere perdono e che dio accetta e accolga le nostre azioni le nostre opere che accetta il nostro pentimento e e chiediamo tutti quanti il perdono a lui e quindi un luogo che è un luogo che dove uomini e donne tutti insieme non soltanto questo ci sono i sette passi e sarà la sciuata e dove tutti i credenti ogni anno e cercano di devono ripercorrere ma i sette passi che cosa fanno fanno parte del rito del pellegrinaggio di uno dei cinque pilastri dove si ricorda la sofferenza la fatica di una donna e quindi dobbiamo ripercorrere i suoi passi la sua ricerca dell'acqua per Ismail e la pace con lei quindi fanno parte del rito del pellegrinaggio anche il ricordare la sofferenza di una donna per cui il luogo del pellegrinaggio il rito del pellegrinaggio non importa più se sei uomo o sei donna importa la tua sincerità e il tuo chlas che c'è dentro il cuore e che non guardi più che accanto a te un uomo o una donna ma devi concentrarti su te stesso sulla tua sincerità sul tuo cuore quello che veramente anche il pellegrinaggio ci insegna questo uno dei cinque pilastri è quello di concentrarsi e di lavorare sulla nostra nia sulla nostra volontà interiore che determina le nostre azioni questo mi sembra molto importante quello che dici una delle funzioni della religione noi lo vediamo nell'islam vediamo ma anche nel cristianesimo lo vediamo in altre religioni nel momento del rito rispettiamo i sentimenti di chi ci ascolta in questo momento dice io però penso che il mondo venga dai gas non esiste né dio né gli angeli niente quello che vedo è questo quindi rispettabilissimo questa posizione non si può imporre la fede a nessuno ma possiamo capire però le strutture della fede allora in queste strutture della religione c'è in un certo momento in cui siamo tutti uguali io ricordo quando studiavo a damasco con grande professore un grande letratto allo stato del massimo e lui diceva vedi quando io vado in moschea e faccio la prostrazione posso mettere la testa in mezzo ai piedi di quello davanti che magari è il mio nemico esatto magari gli devo soldi o mi deve dei soldi esatto magari ma anche un umiliato è più ricco di me così mi ha mancato di rispetto così però in quel momento il momento in cui veramente c'è scompargono le differenze siamo tutti uguali esatto e quindi anche il anche questo il momento della genuflessione delle moschee metto la mia testa anche davanti c'è i piedi anche di quello magari poverissimo che magari non ha nessun ruolo ma davanti a dio stia tutti noi siamo uguali e dobbiamo essere umili su questa vita e non dobbiamo mai entrare nella arroganza e nella soberbia nei confronti degli altri mi sembra che questo sia una una grande lezione che noi possiamo ricevere appunto studiando le religioni e anche chi ci ascolta dal carcere tante volte le persone detenute si sentano l'ultimo l'ultimo anello della società addirittura un anello rifiutato metterlo da parte non bisogna farlo vedere perché tu hai sbagliato quindi ma nel momento in cui il momento del culto così appunto per l'islam così e per il cristianesimo così per il buddismo per altri sistemi religiosi la persona torna al suo livello di dignità quindi abbiamo ci hai dato un po un quadro adesso di quello che il pellegrinaggio magari la volta prossima lo dedichiamo a parlare in modo specifico della festa del sacrificio il suo significato che rimane è proprio il tempo i secondi per un saluto fratelli e sorelle preghiamo il sommamente clemente misericordioso di accettare le nostre opere di incrementare la nostra misericordia gentilezza pazienza e id mubarak buon id inshallah preghiamo il sommamente clemente misericordioso di aiutarci a vivere questa festa nel miglior modo salutare 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 condividere il saluto con il fratello con la sorella chiedere perdono condividere il pasto se riusciamo a fare la preghiera tutti quanti insieme nel carcere senza creare conflitti o confusione facciamolo se non è possibile e dio sa quello che c'è dentro il nostro i nostri cuori baraka lafico e id mubarak giuma mubarak e anche oggi la nostra puntata purtroppo termina qui non possiamo far altro che ringraziarvi di averci seguito e vi ricordiamo che potete scriverci a redazione liberi dentro chiocciolo gmail.com oppure a casa non giuseppe nozzi via del tuscolano 99 40 128 bologna un saluto da me che sono antonella da alessandro masella e nea flacco elena nicoletti maria cristina lolli e paolo aleotti ci vediamo domani ciao dona il tuo 5 per mille all'associazione insight codice fiscale 914 279 50 372